RON TOKYO WANWEI, YOKOSO, benvenuti al mio canale. L'ultimo settembre, mio amico e io andavamo al Shunkaen Bonsai Garden & Museum. Ho molta fotografica, quindi dovrei dividere questo materiale in più parti e in questa parte, vedrai il museo e il tokonomo, che sono una sala japonesa che display Bonsai, e poi vedrai un altro video, o magari due, riguardando tutti i Bonsai in la garden, perché c'erano più di 500 Bonsai, e sono tutti bellissimi per me, e spero che ti abbia piaciuto guardare. A fine di questo video, troverai un bonus, che vedrai un Bonsai di 500 anni e un Bonsai di 200 anni. Questi video sono stati per Bonsai lovers o entusiasti, spero che ti abbia piaciuto, e ringrazio per l'attenzione. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. a tutti. Grazie a tutti.